Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Per l'opportunità di poterlo portare in video, la premessa, perlomeno su Steam, è intrigante. Lunacy Saint Rhodes è un gioco horror di sopravvivenza in prima persona. Scopri l'oscuro passato della tua famiglia e provo un terrore che ti attanaglierà le viscele. Qualcuno ti osserva, non ti lascia mai e non sei mai al sicuro. Molto interessante la premessa, ma lo proviamo, lo proviamo insieme. Il gioco, tra l'altro, non è in Early Access, quindi è uscito. Ha delle recensioni nella media su Steam. Lo andiamo a provare, lo proviamo insieme per la prima volta, così almeno ci facciamo un'idea. Vediamo, facciamo... Viaggio a Saint Rhodes. È un villaggio dove il passato ancora vivo. Non ho letto in tempo, ma va bene. Mi piace molto questa cosa, i segreti della famiglia. Insomma, è sempre una tematica che mi ha sempre incuriosito. Anche in altri giochi, come Black Mirror o Libre, insomma, questa cosa della famiglia misteriosa, dove ci sono case, esplorazioni e oro. Lo stile è sempre quello classico, con una roba vecchissima, telefoni vecchissimi. Salve, mister. Chiamo Roy Milad. Sono un detective dell'omicidio del Dipartimento di Polizia di Wellsmont. Stando i documenti in nostro possesso, lei sarebbe l'unico rete della villa dei Rhodes, nel villaggio di Saint Rhodes. È classico, banale. Ha già formalizzato... Ok? No, non ne sapevo niente. Non sono stato informato di aver ereditato una proprietà. Capitassero a tutti queste fortune. Il problema è che mi hanno scoperto un collegamento tra la sua casa e un vecchio caso, cui ho lavorato quasi dieci anni fa. Qua si interseca con degli ottimi romanzi che sto leggendo, in proposito, su una tematica simile. Vorrei che venisse alla centrale per fornirci... Ok, adesso arrivo. Firmare i documenti. Formalizzare l'acquisizione della proprietà. Generalmente si paga anche, però... Edgarn Lampo. Un bel libro che già sono a scrivere. Mi metto subito in viaggio per raggiungere il posto. Perfetto. Va bene, sarò lì tra qualche ora. Va bene, tutto... Mi fa ridere che tutti gli orori iniziano con... Hai ereditato una casa. Poi c'è il gioco sulla birra, hai ereditato un birrificio. Hai negozio di computer, hai ereditato il negozio di computer. Cioè, è tutto così uguale. Però va bene. Vediamo. Guardati intorno con il mouse, cammina con Vast, inventario. Graficamente, tab e inventario. Abbiamo la torcia. Non... Ah, mi muovo con le frecce. Equipaggio con... Ok. Fin da piccolo ho sempre avuto problemi nella vista, senza occhiali il mondo intorno a me diventa una nebbia confusa. Ah, ce l'ho questo equipaggiato. Posso leggere. Questa è la Rhodes Family. Quindi cliccando vado e scoprirò cose, probabilmente. Questo è il diario dove tengo scritte le cose. Ah, è uscito scritto qualcosa. Ci sono tantissime pagine da scoprire. Adesso abbiamo... C'è qualcosa di stranamente familiare in questo simbolo. C'è altro che posso vedere? No. Direi di no. C'è questo. Che è sempre l'albero genealogico che abbiamo visto prima. Quando l'immagine sotto è un po' diversa. Bellina la luna. E' un po' troppo grande. Uso la torcia col tasto E. E nominiamo. Mi piace molto. Bisogna giocarselo senza correre. Ormai dirloccatissimo. Il posto è proprio brutto. Si apre. Oh, un po' come gli Amnesia. Molto bello. A parte che è un cancello fuori di testa perché c'è la barra in mezzo. Vabbè. E qua ci dirà di abbassarci con... Con control. Dissolto il control OC. Infatti è stato attraverso il villaggio. Andiamo un po'. Joseph Karte. 18 anni. L'ultima volta visto... Ah, siamo nel primo luglio 1940. Sì, infatti siamo prima metà del Novecento. Anche vedendo la scrivania che avevamo. Questo è presumibilmente il villaggio. Ed è molto bello in questi giochi in medesimarsi. Nel senso che camminare... Ascoltare i rumori ambientali. Ho tolto la sfocatura del movimento che mi dà un gran fastidio in questi giochi. O nei giochi in generale. Devo trovare un riparo dalla pioggia prima di prendermi nel freddore. Pulisciate gli occhiali. Ah, figo. C'è anche un po' del long dark. Non mi piace la visuale che... Vediamo se è configurabile. Diminuibile un po' la sensibilità del mouse, ma non credo. Sì, invece sì. Abbassiamo 37. A occhio. Perché così non mi scappa più via. Va bene, continuiamo. Puliamo gli occhiali. Ecco, sotto non piove. Ma non c'è nulla. Non smetterà neanche di piovere, quindi bisogna andare avanti. Qua c'è... Qua c'è... Ho tentato di saltare, ma il salto non c'è. Ma dovrebbe esserci un cancellino o qualcosa. No, piove tanto. Ho qui, forse. Cavoli, piove veramente tantissimo. E vorrei... La mia traccia è portatile. No, fatti strada. Tra il solidario. No, sei giusti. È giusto. Continuiamo. E la casa era questa. Cioè, alla fine... Dovevamo andare qui. Però mi dava una mano qua. Non si passa. Ok, no, è chiusa. Però c'è una finestra. Eh sì, si entrava da qui. Ok. Posso uscire da qui, no? I comandi sono un po' troppo sensibili. Abbassano ancora così e vediamo. Ma le premesse sono assolutamente ottime. Assolutamente ottime. Posso esaminare? Qui non dice nulla. È una famiglia normalissima. Qua ovviamente è tutto chiuso in modo... Oh, posso salire? Posso salire? Anche se qualcosa mi dice fatti i fatti tuoi, ma... Perché c'era la porta di sotto. Qua, allora... Si rende necessario un'ingraza formale sulla spazia di 13 cittadini durante gli ultimi due anni. Gli abitanti di Sainer-Roz hanno fatto sentire la loro voce riguardo alla scomparsa del tempo di mostra... Ok. Ci sono degli scomparsi. Luci nella foresta. Ok. Qui, vabbè, c'è un'altra foresta. Qua c'è un'occupazione di ritorno ad alcune sette locali. Ok. Hanno trovato 63 casse di animali salvatici. Vabbè, ve li butto lì un po' come spunto di trama. Ecco, non andiamo a spolpar tutto perché voglio lasciare giustamente il mistero. Qua è chiuso e qua, tecnicamente, dovremmo uscire, no? Ok, no. Allora mi sa che dobbiamo... Aspetta un po'. Cassetto. No, secondo me dobbiamo andare su. Eravamo andati giusti prima. Cazzo, ho fatto un... Così spaventato. Perché secondo me era giusto dove eravamo prima. Adesso guardo nei cassetti ma non credo di trovarci qualcosa. Vedete, io clicco e tiro con il mouse. Quindi è proprio... Le cassette si richiudono. Sì, magari è elasticizzato. Accendino. Che parendo. Classico. Qua abbiamo un portagioie. Ah, le candele ok. Sono accese quindi forse la gente è stato qui. Quindi è passato da qui anche la gente. Io adesso uso l'accendino lo zippo per accendere le varie candele in giro per casa. Ma sicuramente non è passato di qua. Cosa entra dentro una casa di qualcuno per... Vabbè. Cerchiamo questa maledetta chiave. c'è un portagioie. C'è un portagioie che apriamo e dentro e dentro non c'è niente. C'è un foglio. Caro Simon ho davvero voglio chiamare la polizia raccontare tutto quello che so sulle cose pazzesche che fanno quei rossi. È il minimo che posso fare per mia madre che ha sofferto per colpa loro. William Anderson. Questa è una pagina importante del diario che apre la storia della nostra famiglia. Possiamo accendere e sintonizzare. Facciamo andare a un po' di musica. Sì, però la sensazione di angoscia è abbastanza forte. Beh, torniamo dove eravamo prima. Qui c'è qualcosa di evidenziato. Abbiamo preso una mappa di senso l'ho sottolato una mappa. Con la M apriamo la mappa. Ok, bello. la casa degli ozzeri il cancello principale e noi siamo qua. Siamo alla casa degli Anderson. Quindi non possiamo uscire. Quindi sarà abbastanza lunga arrivare come un crocifisso. Ah, un collezionabile. Queste le odio. Queste cose le odio. Ma non è male. Perché comunque ha una connotazione indie. Ma poi ovvio che se si vuole andare sparati è un po' un problema perché il gioco è lento bisogna andare avanti piano piano. Qua c'è il quadro elettrico qui mancano ovviamente i fusibili. io onestamente non trovo altro qui. Ci sono delle belle decorazioni l'ambientazione è fatta bene però io onestamente oddio quella testa di dicevo qua abbiamo preso quello che dovevamo prendere non c'è niente che sbrilluccica che poi ci sta anche il fatto che sbrilluccichi per non farcelo perdere però io direi che qui non c'è nient'altro almeno guardando eh no infatti dobbiamo guardare qua ma non c'è niente la major con la rete ascolta per oltre due minuti ho sbloccato un obiettivo di steam oddio ma qualcuno sta picchiando di là mamma mia mi sta salendo l'angoscia e qui qui ha spostato no veramente mi stanno vedendo i bravi ve lo giuro mi stanno venendo i brividi che cacchio succede c'è qualcuno bussava alla porta scusate se io esco no qua è impossibile che ci sia qualcuno ma veramente spregiuccicava la luce e si sentiva bussare mamma mia adesso è aperto ma cavoli ma cavoli ma è chiusa prima questa porta no veramente mi sono venuto i brividi è una mappa che stiamo andando verso la casa poi il gioco è sicuramente indirizzato e super consigliato da quello che ho provato per questi pochi minuti a chi di voi è appassionato di horror e cerca qualcosa sempre di nuovo qualcosa di un po' diverso dai classici resident evil e cose varie spara tutto è qualcosa più simile ad altri giochi dove ad esempio crimson manor o cose del genere o gli amnesia insomma cosa del genere credo che stiamo andando giusti perché stiamo per arrivare alla casa quindi vediamo se l'obiettivo si ce li ha dati completati quindi direi che stiamo arrivando al maniero al maniero che nasconderà molte storie allora 20 euro non è male non so dirvi la lunghezza del gioco ma qui secondo me è in vendita comunque l'emozione non si passa mi serve una cesoria quindi mi parte l'obiettivo di farmi strada fino in casa o c'è qualche altra strada ha smesso che di piove credo c'è un'altra entrata forse facendo il giro sotto si poi in realtà ma io vorrei vederla com'è sta casa ma non si vede perché è bellissimo sto posto perché è dietro questi questi alberi qui si dovrebbe tagliare questa ma non non abbiamo niente andiamo avanti cioè torniamo indietro più che andiamo avanti vediamo se c'è qualcosa qua sotto dentro qui e qui sembra un vecchissimo parco giochi vabbè mamma mia posso spostare la botte la botte e passare qua sotto ok e stiamo salendo a sentire lo segreto ok fammi vedere cosa c'è dentro è un cesso va bene eccola lì la casa credo sia quella sì questa è la casa degli avversi spavento anche qui ma sapete che fino adesso mi ha fatto venire dei brividi alla pelle più di tanti altri titoli che diciamo partivano già con questa intenzione probabilmente perché sono partito senza aspettative poi non la luna così grossa non mi piace però fa scena e non mi piace neanche che si crei questo buio totale dopo che la facciamo andare dietro la casa comunque un minimo dovrebbe però vabbè stiamo tornando il pello nell'uovo è giusto vedere qualcosa beh è un po' decadente però l'entrata dovrebbe essere da quella vediamo esatto perché era chiuso di là e qui hanno buttato tutte le casse tutti i bancali tutto davanti a casa e la casa è anche un maniere insomma una bella casa che posso mai comunque vecchiotta la chiave ovviamente sotto il vaso no sarà sotto un vaso no no ultimo vaso vediamo se l'obiettivo me l'ha segnato cerca la chiave della porta principale sì beh di solito la mettiamo la mettiamo via da qualche parte la nascondiamo sotto un pezzo di legno finestra e chiusa si vede dentro qualcosa ok basta è chiusa blu nella cassetta delle lettere andiamo all'entrata quella che non che non abbiamo superato prima magari c'è qualcosa ci sono le mure di cinte intorno di qua dove eravamo prima vedete che non posso aprirlo tutto chiuso no non è qua non è qua la chiave però qua abbiamo una vista migliore di quella che è la dimensione della casa che sembra essere bella di rosso qua si passa dietro vediamo se c'è qualcosa eh forse qua eccola lì presa perfetto ora vediamo com'è l'interno sono proprio curioso prendo la luce vabbè dai andiamo accendo l'inventario col tasto ancora la rotella seleziono la chiave e apro accendo la luce perché ovviamente non c'è non c'è la corrente chiudo indagare e trovo un modo per riattivare l'elettricità la casa è devastata totalmente muffa sulle pareti disabitata da anni porte chiuse le piante sono ancora vive non c'è manco l'ombra del tipo che doveva attestarci diciamo il passaggio di proprietà dell'immobile ci sono ci sono bei dettagli come esempio i quadri ed è pieno di rumori io ovviamente li sento un po' vattati perché ho la doppia cuffia registrando per sentire diciamo i rumori che capta il microfono ma a livello di sonore non è male ho preso un collezionabile si non serve a niente continuo a prendere la roba inutile la cucina beh non è nulla di originale però a me onestamente per quanto ho visto finora mi sembra fatto bene mi sembra intrigante mi ha dato i giusti brividi la luce non va devo ritirare la corrente cos'era quel rumore beh in questi casi la porta è aperta bisogna deve scendere di sotto per trovare la corrente quindi ci deve essere un seminterrato o qualcosa tutto chiuso tutto chiuso tutto chiuso una foto questa foto di famiglia sarà da capire chi sono queste persone accendiamo un'altra persona sul quadro ci saranno anche passaggi segreti o cose varie ma questa era chiusa ah non sono entrato da qui no o si ci sono cavi collegati alla porta sembra chiusa elettricamente per qualche motivo ah si è vero è vero beh il problema è che di solito il contatore è di sotto e io salgo di sopra soprattutto una porta sì quell'idea che diceva di qualcuno che mi osserva la sento comunque la porta è chiusa elettronicamente anche quella io veramente che mi diceva baccocci per terra ci sono cose coperte non e poi tutto chiuso non c'è niente non c'è niente che si può fare è chiuso come ho detto ma non c'è nient'altro qua c'è un armadio interruttore c'è qualcosa qua no era lanta ok come non detto no devo trovare devo trovare il modo di scendere di sotto in qualche parte attivare l'energia elettrica tra l'altro qualcuno aveva anche sbattuto la porta quando avevo quando ero salito lì in alto quindi non lo so anche qui porta elettronica come dicevamo il telefono non sembra funzionare senza elettricità accendo anche questo c'è un pendolo bellissimo eh bu qua è chiuso è chiuso ed è chiuso allora ragazzi io onestamente mi fermo qua il gioco è intrigantissimo ovviamente se cercate qualcosa di assolutamente ottimizzato magari non è legnosissimo vi dico la verità gira anche abbastanza bene ovvio che si vede che non è un Resident Evil o un Annesia anche come budget immagino però il gioco merita a me non dispiace ha un sacco di dettagli fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti se lo avete apprezzato avete sentito la radio sta cambiando sintonizzazione molto male vabbè comunque prima che salti sulla sedia salverò la partita qua c'è il tempo di gioco totale tutte le candele ci dà una sorta non mi piace tantissimo questa cosa qui comunque ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo Lunacy alla prossima e ciao ciao l'unico 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 Grazie a tutti.